Team Web Analytics, per cui un team, come dire, di un certo peso nell'ambito del digitale. Questo team proprio perché credo che l'analisi dei dati sia fondamentale per andare a capire quello che è stato fatto in passato. Le tue scelte che hai fatto, andare a comprendere i risultati che hanno portato queste scelte e andare a aggiustare le strategie nel tempo. Quindi ti permettono di avere degli indicatori molto più precisi rispetto a quello che forse c'era in passato e avere delle strategie che ti permettono di ottimizzare le risorse e raggiungere gli obiettivi in maniera forse più veloce o comunque ottimizzando tutto quello che è inteso come risorse a 360 gradi, non solo monetarie. Google Analytics lo stiamo utilizzando. Poi nel mio caso specifico, perché dopo siamo divisi in vari team, utilizziamo anche Outgrow per raccogliere dati relativi a test che vengono fatti a test attitudinali. Team Monster anche. Ogni piattaforma comunque tendenzialmente ha la sua dashboard di Analytics. Analytics all'inizio sembra un po' un mondo un po' particolare, nel senso che bisogna un attimo comprendere le dinamiche e come utilizzarlo, perché si possono fare talmente tante cose, si possono scendere talmente nello specifico che appunto bisogna imparare a settarlo e utilizzarlo bene. Quello che stiamo facendo un po' in questa web.